Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video della serie di sopravvivenza. Sono uscite le nuove carte collezionabili di Minecraft Time to Mine. Mi sono arrivati infatti il raccoglitore, il kit base e tante, ma tante, bustine da spacchettare. E che cosa possiamo spacchettare da queste bustine, vi chiederete. La collezione comprende ben 207 carte, di cui 55 carte metallizzate, 53 carte effetto specchio ed alcune versioni parallel con effetto rainbow ed effetto dorato. Queste ultime sono definite carte super rare. Esistono anche 8 carte limited, 4 delle quali presenti nello starter pack e 4 presenti nel pack online. E a proposito di online, se vi interessa sapere come trovare tutte queste carte e come acquistare tutti questi prodotti, potete dare un'occhiata al link in descrizione per raggiungere il sito della Panini. Sul sito della Panini troverete infatti tutte le nuove carte di Minecraft Time to Mine, pronte da prendere e da spacchettare. Nei commenti fatemi sapere se riuscite a trovare le carte super rare. Ho deciso di fare l'introduzione qui perché ragazzi, in questa stanza abbiamo il signor Bilbo e il signor Frogdo, i miei due pet del Castello Giappo. E proprio il signor Bilbo ha un problema che apparentemente è il motivo per cui non posso usare l'ultimo snapshot. Infatti ieri è uscito lo snapshot 22v16a, un snapshot molto buggato che faceva crashare il gioco. Tant'è che hanno rilasciato poi la versione B, che non fa più crashare il gioco, ma a me crasha lo stesso. E questo mondo non si apre neanche con la versione B dello snapshot di ieri. Ho deciso di fare un po' il nerd e di leggermi il messaggio d'errore, scovando un particolare molto strano, ovvero che pare che l'errore fosse causato da un'entità. E questa entità era proprio Bilbo, che per qualche motivo fa crashare lo snapshot. Non ho idea del perché, ma succede. E quindi in attesa della prossima settimana o di un'altra versione correttiva, per ora non useremo lo snapshot e quindi il disco misterioso del Deep Dark lo cercheremo un'altra volta. Ma tranquilli perché abbiamo un sacco di cose da fare, e oggi in particolar modo voglio occuparmi di sbloccare un nuovo avanzamento del gioco. Come sapete, gli obiettivi del gioco ogni tanto mi si resettano per via dell'upgrade ai vari snapshot. Ad esempio, ho fatto l'avanzamento riguardante le rane recentemente, ovvero quello di legare le tre rane di diverse varianti e poi ottenere le tre frog light nell'inventario. Ma mi ha tolto quello di catturare un girino. Il che non ha senso, perché ho fatto le farm e, avete visto anche voi i video, ho più volte preso i girini all'interno dei bucket, quindi lo rifacciamo al volo. Ma non era questo che dovevo fare oggi, tranquilli. Oggi faremo l'avanzamento Star Trader, ovvero scambiare con un villager, ahia, mi sono preso una montagna in faccia, scambiare con un villager all'altezza massima del mondo. Che può sembrare facile, ma non è facile, perché dobbiamo portare un villager all'altezza massima del mondo. Il che non è proprio una passeggiata. Ma ho in mente un paio di piani funzionanti. Prima, però, vi presento un nuovo amico. Ricordate il laghetto ghiacciato qua sotto? Eccolo, un attimo migliorato, mettendo vari tipi di ghiaccio, mettendo un po' di neve attorno per dare l'aspetto di mini biome invernale. E qui dentro c'è Orfabio. Orfabio è un orso, di nome Fabio, che purtroppo ho incontrato nei ghiacci, mentre raccoglievo questi tipi di ghiaccio. Orfabio era solamente un cucciolo e il suo genitore mi ha aggredito mentre raccoglievo il ghiaccio. E io ho dovuto compiere l'atto estremo. E diciamo che mi faceva un po' tenerezza quel cucciolo abbandonato e quindi l'ho portato a casa. E ora Orfabio abiterà qui, nel laghetto ghiacciato che è stato sistemato. E' così che nascono i miei pet, di solito, molto a caso. Se avete visto la live di ieri, appunto, è successa sta cosa imprevista e quindi non potevo non farlo. Mentre vi faccio vedere anche che il passaggio segreto qui dentro è andato avanti. Quindi ora, aprendo, tirando quella leva, si apre questo passaggio. Posso andare sotto, mi vado a chinare per entrare sotto il pavimento negli ingranaggi. E premendo questo pulsante si apre una porta e rimane aperta. Perché il pulsante è in realtà trasformato in una leva. E quindi poi si apre un enorme tunnel che ci porta giù dritti fino al warden. Pensate un po'. Prima o poi dovrò fare il tour di tutti i miei passaggi segreti. Perché verrebbe un video davvero assurdo. Ce ne sono tantissimi e di tutti i tipi. E sono nascosti in punti che tra un po' manco io mi ricordo. Ma, ragazzi, oggi abbiamo l'obiettivo di Star Trader. Quindi, andiamoci da fare. Per fare questo obiettivo abbiamo bisogno di alcune semplici cose. Ad esempio, alcuni smeraldi per fare gli scambi, logicamente. E un sistema per portare il nostro villager che andremo a prendere fin sopra al limite del mondo. Ci sono varie idee applicabili. Una delle quali, molto interessante, fai una scala e ti fai seguire da uno zombie villager che poi trasformi in cima al mondo. Oppure porti un villager già fatto e a quel punto lo puoi portare, ad esempio, con un minecart oppure con un ascensore ad acqua. Io opterò questa volta per il minecart. Quindi abbiamo bisogno di un minecart, ovviamente. Eccolo qui. E abbiamo bisogno di un casino, ma un casino di rotaie. Perché partiremo d'altezza più o meno 60 e qualcosa. Dobbiamo arrivare su fino a 320. Quindi, come potete capire, se la matematica non è un'opinione, ci serviranno circa 240 rotaie. Il che vuol dire che ci prendiamo quattro stack di queste e direi di aggiungerci anche un paio di stack di queste che associeremo a un bel po' di torci di redstone perché dovremo alimentare queste rotaie per far salire il nostro villager. Quindi, torci di redstone. Qui ne ho 11 che non bastano mai nella vita. Quindi andiamo a farne altre, molte altre. Facciamo almeno uno stack. E se non ho fatto male i conti, dovremmo ora arrivare esattamente a 64. Perfetto. Adesso, l'unico materiale che ci manca è la terra, che ci permetterà di costruire una scala fino ad arrivare in cima. Qui ci serviranno molti più stack perché per fare la scala non facciamo un pillar. Quindi dovremo mettere due blocchi a ogni coordinata Y. E quindi direi di prendere 4, 5, 6, 7, 8 stack per essere un attimo tranquilli teoricamente. E infine, andiamo a prendere un villager. Ci serve un villaggio pulito dove non siano passati gli zombie perché molti dei miei villaggi ormai sono vuoti. E un'ultima cosa prima di andare. Ho parlato di pet e qui c'è un pet che è davvero carinissimo. Il mio alley prescelto che ora si tiene questa zappettina di diamante perché lui coltiva le piante nella serra. Sembra un po' una piccola morte che sta arrivando a mietere anime. Un triste mietitore in miniatura. Il fatto è che gli manca un nome. Quindi, se volete, nei commenti suggeritemi un nome per questo alley. Devo ancora dare il nome a diverse cose. Il warden, ad esempio. Prima o poi arriverà l'episodio dei nomi dove sistemiamo tutto e basta. Per quanto riguarda il villager, per fortuna so di questo villaggio che dovrei non aver mai toccato. Quindi non dovrei aver fatto casino. Infatti qui c'è un bel villager pronto per essere preso che ha anche dagli scambi molto fattibili. Quindi, prima cosa che andiamo a fare è mettere una rotaia e cercare di acchiapparlo con un kart. Cosa non facilissima anche perché lui non starà mai fermo. Quindi, un ottimo piano visto che sono appena entrato in casa sarà questo. Quindi mettere un kart qui e fare così. Mettiamo anche questo. Apriamo la porta a modo nostro e, ok, c'è quello piccolo qua dentro però. E questo è un problema, mi serve quello grande. Sentite, non facciamoli schizzinosi. Un villager vale l'altro, l'importante è catturarlo. Ah, prendilo! Dai, entra! Entra, signor villager. Signor villager, la prego, entri nel fottuto kart e è difficilissimo. Effettivamente lui va sempre al compostaggio, quindi se io gli mettessi il kart qui, sai che non è una brutta idea? Perché appena si avvicina al compostaggio noi andiamo a prenderlo, lo catturiamo subito. Vai a compostare un po' dei semini, delle tue robe, dai. Vai, vai, salta su. Perfetto. Senti, se facciamo un po'... Ok, preso, perfetto. Il villager è catturato. Ora, quello che vogliamo evitare è che arrivi la notte e che me lo uccidano, quindi cerchiamo subito di costruire quello che dobbiamo costruire, ovvero una scala infinita che ci porterà fino al limite del mondo. Quindi, primo step, muoviamoci, come vedete vado velocissimo con shift perché ho l'incantamento, ma non sarò molto veloce a fare la scala perché ci vorrà il suo tempo. A noi serve che il villager arrivi in cima al mondo, quindi dovremo fare una scala davvero, davvero enorme. E sono già caduto, mi sa che ci vorrà molto più tempo del previsto. Arrivati qui, sono al vecchio limite del mondo, quindi non manca tantissimo. Qualcuno potrebbe dirmi che l'ascensore sarebbe stata una soluzione migliore, ma ricordate che per fare l'ascensore avrei dovuto fare un pillar di acqua e quindi circondato da quattro pillar di terra che è molto materiale e poi avrei dovuto mettere l'acqua dentro, le bolle e per non mettere tutte fonti avrei dovuto usare le alghe dall'inizio alla fine. Comunque anche quello è un bel impegno, fidatevi. Inoltre i kart da una parte mi piace di più perché poi avremo questo villager nelle stelle che terremo incastrato nel kart. Quando avrò fatto l'achievement anzi l'avanzamento io toglierò tutto questo coso qua sotto ma il villager lo lascio lì perché se me lo resettano di nuovo non ho voglia di rifare tutto sto lavoro. Quindi avremo un villager volante in un kart che non potrà scappare sarà abbastanza al sicuro. E apparentemente ho finito i materiali ragazzi non l'avrei mai detto ma ho finito tutti i materiali quindi mi manca pochissimo possiamo togliere giusto qualche strato di terra da qui e andiamo tranquilli però sì mi servivano nove stacchi alla fine Siamo arrivati al limite quindi il nostro villager arriverà qui noi gli facciamo una piccola stazioncina e l'idea sarà di farlo arrivare molto di fretta in modo che il kart finisca qua sopra sperando di non farlo cadere quindi gli mettiamo un po' di spazio di frenata e ora come vedete sta avvenendo la notte il che è un bel problema quindi dobbiamo scendere mettere in sicurezza il nostro villager basterà costruirgli attorno e poi nonostante la notte possiamo lavorare oppure ragazzi sapete che c'è effettivamente roba tipo molto più semplice vado a dormire nella casa del villager gli rubo pure il letto e siamo a posto io non ho idea di cosa sia successo qui ma è tutto allagato a caso e improvvisamente ora per il nostro villager e per farlo salire ci servirà piazzare le rotaie quindi andiamo ovviamente a partire con una bella rotaia caricata le ne mettiamo un po' e poi facciamo 1,2,3,4,5,6,7,8 e una caricata direi che potrebbe bastare così 1,2,3,4,5,6,7,8 e una caricata e ora ragazzi andrò avanti così fino alla fine in seguito metterò anche le torce mentre scendo così facciamo il percorso andate e ritorno una sola volta e poi siamo pronti a partire si spera ok c'è un problema imprevisto ovvero il villager arriverà qui però non potrà salire perché questo non si connette sopra essendo che qui non posso mettere altre rotaie lo dovremo far scendere e poi farlo salire qui sopra non mi piace questa cosa non mi piace per niente ma ci proveremo sicuramente gli mettiamo un ultimo coso qui e adesso andiamo a prendere i blocchi e vicino alle rotaie potenziate mettiamo una redstone torch in modo che ovviamente venga tutto alimentato e poi niente speriamo solamente che sia abbastanza che non muoia che vada tutto bene se dovesse morire il villager ne prendiamo un altro e ci riproviamo mal che vada l'importante è che la rotaia è stata fatta ok ragazzi ci siamo il momento è giunto visto che ho paura che possa tornare indietro io metterei per sicurezza dietro al villager la rotaia fino a qui con un blocco per fermarlo ma adesso signor villager si parte vediamo un po' ok eh non è abbastanza ragazzi infatti è tornato indietro e questa è una gran rottura di palle speravo bastassero due rotaie potenziate anzi una rotaia potenziata ma non basta quindi le rotaie potenziate da una passeranno a tre in ogni sezione così dovremmo essere assolutamente a posto li facciamo tutto il giro ah che bello voi che vedrete il video e ci riproverete saprete già come funziona alla fine io devo fare trial and error finchè non riesce quindi comunque alla fine a voi andrà meglio di me l'importante è assicurarsi che tutte queste rotaie potenziate siano attivate vi ricordo che se sono attivate accelerano il kart altrimenti lo frenano infatti l'ultimissima rotaia in cima è una di queste ma non è attiva perché voglio che il kart venga ben frenato e tenuto in posizione ora spero che bastino dovrebbero bastare vado a finire tutta la tratta questa volta dovremmo esserci davvero quindi signor villager la spingo un po' io vada vada signor villager si l'ho rotto le carote chi se ne frega ora dovrebbe riuscire a salire oddio è molto no ragazzi non basta lo stesso ma quante te ne servono per salire oh forse gli intervalli tra uno e l'altro dovrebbero essere inferiori a sto punto no vabbè ragazzi qua non finisco più mamma mia che tortura allora ne ho altre 37 io ne aggiungo una tratto e vediamo se fa il trick ovviamente se ne avete tantissime di queste fate tutto potenziato e fate prima ragazzi cioè non perdete tempo come me comunque speriamo che questa volta vada gli ho messo anche un boost extra all'inizio signor villager prego vediamo un po' se così vuole salire per ora sta andando lo vedo molto lento ma sembra stare andando quindi dovremmo esserci ecco qui il nostro villager che sta salendo ok ragazzi così funziona quindi alla fine dei conti saranno 6 normali e 4 potenziate e ci arriva a malapena allora andiamo sopra ragazzi è il momento di accogliere il nostro amico mi chiedo ma se io faccio lo scambio che io sono al limite del mondo ma lui no funzionerà ugualmente perché a quel punto saremmo già a cavallo non ci credo lui non scambia gli smeraldi lui vuole le barbe a vietole ma che sei scemo ah mamma mia allora allora calmi chiudiamo tutto vado a prendere i tuoi ortaggi oppure patate va bene arrivo tanto voglio dire non è che mi sprecherò troppo le rubo dai loro stessi campi quindi se li sta bene così ehm come l'ho detto non bastano vado a casa a prendere delle patate ma guarda te cosa mi tocca fare ed eccoci di ritorno signor villager io prego che vada bene sta cosa allora prendiamo prima una barbabiesa e yes va già bene così star trader allora non siamo costretti a portare lui al limite massimo ma io devo scambiare dal limite massimo signor villager è stato un piacere fare affari con lei io direi che tutta questa massa di blocchi non serve la lasciamo giusto così circondata unica cosa gli mettiamo una bella torcia qui così siamo certi che non succeda nulla di male qua possiamo togliere e per il resto ragazzi tutta sta roba la possiamo levare perderò un sacco di rotaie che dropperanno nel nulla ma l'importante direi che è togliere questa mega scala antiestetica è stato un bel tryhard fare questo avanzamento ma ce l'abbiamo fatta missione compiuta ragazzi noi ci vediamo domani con un nuovo video un saluto da Eren ciao a tutti